E' di due feriti e due macchine distrutte il bilancio di un incidente che si è verificato nel corso della notte alle 23.40 circa a Forlì sulla Via Emilia, all'altezza di Villanova. Ma le conseguenze potrebbero essere state molto peggiori. A causare il tutto una Mercedes classe A, a bordo della quale si trovavano un 31enne, figlio della proprietaria del mezzo e un amico di 37 anni, entrambi forlivesi, che viaggiavano in direzione di Faenza. La vettura prima ha tamponato una betoniera per poi darsi alla fuga, inseguita dall'autista dell'automezzo pesante. Dopo pochi metri ha centrato la panda di un ignaro a 48enne di Forlì scagnandola contro un palo della luce. L'utilitaria della Fiat si è letteralmente avvolta al palo e solo per caso il conducente se l'è cavata con ferite di media gravità. Nel frattempo la Mercedes si è capovolta, i due occupati sono dati alla fuga nei campi. Il 31enne, ferito gravemente, è stato trovato riverso nel terreno adiacente alla strada. L'amico invece è stato rintracciato in una casa nelle vicinanze con leggere contusioni. Entrambi avevano tassi d'alcol nel sangue largamente superiori a quelli consentiti ed entrambi hanno negato di trovarsi al posto di guida al momento dell'incidente. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale della sezione di Rocca San Casciano. Corsa sul posto, insieme ai vigili del fuoco, due ambulanze e un'auto medicalizzata del 118. La strada è rimasta bloccata per diverso tempo per consentire le operazioni di soccorso e i rilevamenti del caso. Grazie. Grazie.